Balzac, il capolavoro sconosciuto Gilette, verso la fine dell'anno 1612, in una fredda mattina di dicembre, un giovane vestito molto dimessamente passeggiava dinnanzi alla porta di una casa di Rue de Grande Augustin a Parigi. Dopo aver a lungo camminato avanti e indietro, con l'irressolutezza di un innamorato che non osi presentarsi alla sua prima amante, per disponibile che la sia, finì poi per varcare la soglia di quella porta e domandare se il maestro François Porbus fosse in casa. Alla risposta affermativa di una vecchia, intenta a spazzare una stanzetta, il giovane salì lentamente le scale, soffermandosi ad ogni gradino come un cortigiano di fresca investitura, incerto sull'accoglienza che il re gli vorrà riservare. Quando fu arrivato in cima, sostò un momento sul pianerottolo, indeciso se afferrare il grottesco picchiotto che ornava la porta dello studio dove sicuramente lavorava il pittore di Enrico IV, abbandonato per Rubens da Maria de' Medici. Il giovane provava quella sensazione profonda che deve aver fatto tremare il cuore dei grandi artisti, quando al culmine della loro giovinezza e del loro amore per l'arte abbiano affrontato un uomo di genio o un capolavoro. In tutti i sentimenti umani esiste un fiorire iniziale, generato da un nobile entusiasmo, che va poi giorno per giorno smorzandosi, fin quando la gioia non sia più che un ricordo e la gloria una menzogna. Tra queste fragili emozioni, niente somiglia più all'amore della giovanile passione di un artista, avviato al delizioso supplizio di un futuro di gloria e di infelicità, di passione piena d'audacia e di timidezza, di certezze vaghe e di scoraggiamenti certi. A chi, adolescente di genio e a corto di denaro, non abbia vivamente palpitato, presentandosi a un maestro, mancherà per sempre una corda nel cuore, un tocco di pennello, una certa sensibilità nell'opera sua, una qualche espressione poetica. Se certi fanfaroni gonfi di sé credono troppo presto nel loro avvenire, essi non saranno ritenuti persone di spirito che dagli sciocchi. Sotto questo aspetto, il giovane sconosciuto pareva possedere un merito autentico, sempre che il talento si misuri secondo quella timidezza innata, quell'indefinibile pudore che le persone votate alla gloria sanno poi perdere nell'esercizio della loro arte, come le belle donne perdono il loro nella pratica della civetteria. L'abitudine al trionfo stempera il dubbio, e il pudore forse è proprio un dubbio. Angustiato dalla miseria e sorpreso in quel momento dalla propria audacia, il povero neofita non si sarebbe certo introdotto nella casa del pittore, al quale dobbiamo il mirabile ritratto di Enrico IV, senza un aiuto straordinario inviatogli dal caso. Un vecchio prese a salire le scale, dalla bizzarria dell'abbigliamento, dalla magnificenza della sua goletta di pizzo, dall'assoluta sicurezza del suo incedere, il giovane immaginò in quel personaggio il protettore, o l'amico del pittore. Si fece da parte sul pianerottolo e lo esaminò con curiosità, sperando di vedere in lui la natura benevola di un artista, o quella disponibilità che è di quanti amano l'arte. Ma intuì qualcosa di diabolico in quella figura, e soprattutto in quel certo non so che da cui sono affascinati gli artisti. Immaginate una fronte calva, bombata, prominente, aggettata su un piccolo naso schiacciato e rivolto verso l'alto, come quello di Rablè o di Socrate. Una bocca beffarda e grinzosa, un mento corto, molto pronunciato, ornato da una barba grigia tagliata a punta. Degli occhi verde mare, appannati forse dall'etama, che per contrasto con il bianco madreperlaceo sul quale galleggiava la pupilla, dovevano talvolta, dal colmo dell'ira o dell'entusiasmo, lanciare sguardi magnetici. Il viso, d'altronde, era singolarmente segnato dal logorio degli anni, e ancor più da quei pensieri che scavano sia l'anima che il corpo. Gli occhi non avevano più cilia, e si vedeva appena qualche traccia delle sopraccilia sulle loro arcate sforgenti. Mettete questa testa su un corpo esile e fragile, contornatela di un merletto di smagliante bianchezza, lavorato a spina di pesce, ornate il suo farsetto nero di una pesante collana d'oro, e avrete un'immagine imperfetta di quel personaggio, al quale la fioca luce delle scale conferiva infine un colorito fantastico. Avreste detto che una tela di Rembrandt camminasse silenziosamente e senza cornice, nella buia atmosfera che è propria di quel grande pittore. Il vegliardo gettò sul giovane uno sguardo penetrante, bussò tre colpi alla porta, e disse ad un uomo di circa quarant'anni, dall'aspetto malaticcio venuto ad aprire, «Bongiorno, maestro». Porbi si inchinò rispettosamente, fece entrare il giovane, credendo che fosse assieme al vecchio, e prestò così poca attenzione a lui che il neofita poteva indugiare in quell'incanto che devono provare i pittori principianti di fronte al primo studio che vedono, e dove si rivelano loro alcune tra le tecniche dell'arte. Una vetrata aperta sulla volta rischiarava lo studio del maestro Porbi. Concentrata su una tela fissata al cavalletto, e sulla quale erano state tracciate solo tre o quattro pennellate bianche, la luce non riusciva a giungere fino alle cube profondità degli angoli di quel vasto ambiente, ma qualche riflesso sviato accendeva in quell'ombra rossastra argente i luccichi sul ventre di un'antica colazza da cavaliere appesa al muro. Tagliava con una lama netta la cornice, scolpita e lucidata a cera di un'antica credenza carica di curiose stoviglie. O screzziava di punti scintillanti la trama ruvida di alcuni vecchi tendaggi di broccato d'oro dagli ampi pannezzili cadenti, buttati là a far da modello. Forme anatomiche di gesso, frammenti e torsi di antiche dèe, amorosamente levigati dal bacio dei secoli, erano sparsi sui ripiani e sulle console. Innumerevoli abbozzi, a matita colorata, a sanguigna o a penna, coprivano le pareti fino al soffitto. Scatole di colori, bottiglie d'olio e di ragia, sgabelli rovesciati, lasciavano a malapena uno stretto passaggio che conduceva sotto l'aureola proiettata dall'alta vetrata, i cui raggi cadevano a piombo sul pallido volto di Porbus e sul cranio d'avorio di quell'uomo straordinario. L'attenzione del giovane fu ben presto interamente attirata da un quadro, che in quei tempi di torbidi e di rivolte era già divenuto celebre e che alcuni di quegli ostinati cui si deve la conservazione del fuoco sacro nei giorni tristi si recavano a visitare. Rappresentava quella bella opera, una maria egiziaca, nell'atto di pagare il pedaggio della barca. Questo capolavoro dipinto per Maria de' Medici fu poi da lei venduto quando si trovò in ristrettezze. «La tua santa mi piace», disse il vecchio a Porbus, «e te la pagherai dieci scudi d'oro più di quanti te ne dia la regina. Ma competere con lei, che diavolo!» «La trovate buona?» «Mh, mh, mh», fece il vecchio. «Buona?» «Sì e no, la tua brava donna non è malimpostata, ma è priva di vita. Voi vi credete di aver fatto tutto quando avete disegnato correttamente una figura e messa ogni cosa al suo posto secondo le leggi dell'anatomia. Poi colorate questo schizzo con un tono di color carne già preparato in precedenza sulla vostra tavolozza, badando bene che una parte risulti più in ombra dell'altra. E siccome guardate ogni tanto una donna nuda che sta in piedi su un tavolo, vi immaginate di aver copiato la natura? Pensate di essere dei pittori ed aver rubato a Dio il suo segreto? No, non basta conoscere a fondo la sintassi e non fare errori di lingua per essere un grande poeta. guarda la tua santa, porbi. A prima vista può sembrare ammirevole, ma alla seconda occhiata ci si accorge che è incollata sul fondo della tela e che non sarebbe possibile girarla intorno. È un profilo che non ha che un'unica dimensione, un'immagine ritagliata, una figura che non saprebbe voltarsi né cambiare posizione. Non c'è stacco fra questo braccio e lo sfondo del quadro. Mancano spazio e profondità, e tuttavia tutto è a posto nella prospettiva corretta, e lo sfumarsi dei colori in lontananza reso ottimamente. Ma nonostante questi lodevoli sforzi, io non saprei credere questo bel corpo animato dal tiepido soffio della vita. Mi pare che se posassi la mano su questa gola, di una rotondità così corposa, la troverei fredda come il marmo. No, amico mio, non scorre il sangue sotto questa pelle d'avorio, e la vita non gonfia con la sua purpurea rugiada, le vene e le fibrille che si intrecciano a reticolo sotto la trasparenza ambrata delle tempie e del petto. Questa parte palpita, ma quest'altra è immobile. La vita e la morte lottano in ogni particolare. Qui è una donna, là una statua, tu in là un cadavere. La tua creazione è imperfetta. Non hai saputo infondere che una parte della tua anima alla tua opera prediletta. La fiaccola di Prometeo ti si è spenta più di una volta fra le mani, e molti particolari del tuo quadro non sono stati toccati dalla fiamma celeste. Ma perché, mio caro maestro, chiese rispettosamente porbì al vegliardo, mentre il giovane reprimeva a stento un forte desiderio di schiaffeggiarlo. — Ah, ecco, rispose il vegliardo, tu hai oscillato, indeciso tra i due sistemi, fra il disegno e il colore, tra la flemma minuziosa, il rigore esatto dei vecchi maestri tedeschi, e l'ardore abbagliante, la felice esuberanza dei pittori italiani. Hai voluto imitare insieme Hans Holbein e Tiziano, Albrecht Dürer e Paolo Veronese. Certo, una magnifica ambizione. Ma cos'è successo? Non hai ottenuto né l'incanto severo della sciuttezza, né le ingannevoli magie del chiaroscuro. In questo punto, come un bronzo fuso che crepe il suo stampo troppo fragile, il ricco e biondo colore di Tiziano ha fatto scoppiare l'esile linea di Albrecht Dürer, nella quale tu l'avevi colato. Altrove il disegno ha resistito e ha contenuto i magnifici stralipamenti della tavolozza veneziana. La tua figura non è né perfettamente disegnata né perfettamente dipinta, e mostra dappertutto i segni di questa infelice indecisione. Se non ti sentivi abbastanza forte per fondere insieme, col fuoco del tuo genio, le due maniere rivali, bisognava optare francamente per l'una o per l'altra, onde ottenere quell'unità che simula una delle condizioni della vita. Non sei vero che a metà. I tuoi contorni sono falsi, non sono avvolgenti, non lasciano immaginare niente dietro. Qui c'è un po' di verità, disse il vecchio mostrando il petto della santa. E poi qui, indicando nel quadro il punto nel quale finiva la spalla. Ma là, disse tornando al centro della gola, tutto è falso. Non stiamo ad analizzare, servirebbe solo a farti disperare. Il vecchio si sedette su uno scabello, si prese la testa fra le mani e tacque. Eppure l'ho ben studiata sul nudo questa gola, maestro, disse Porby. Ma per nostra disgrazia ci sono degli effetti veri in natura che si rivelano poi improbabili sulla tela. La missione dell'arte non è copiare la natura. Ma esprimerla? Tu non sei un vile copista, ma un poeta, esclamò il vecchio con vivacità interrompendo Porby con un gesto dispotico. Diversamente per uno scultore non sarebbe un gran lavoro modellare una donna. Bene, prova a modellare la mano della tua amica e poi mettitela davanti. E ti troverai di fronte a un orribile cadavere, privo di ogni veridicità. Sarai costretto a cercare lo scalpello dell'uomo, che senza copiartela esattamente te ne raffigurerà il movimento e la vita. Noi dobbiamo cogliere lo spirito, l'anima, l'immagine profonda degli oggetti e delle creature. Gli effetti. Ma gli effetti sono gli accidenti della vita, non la vita. Una mano, da che ha preso questo esempio, non si collega solo al corpo, ma esprime e continua un pensiero che bisogna accogliere e rendere. Né il pittore né il poeta né lo scultore devono disgiungere l'effetto dalla causa, che sono indissolubilmente l'uno nell'altra. Qui è la vera lotta. Molti pittori riescono distinto senza nemmeno conoscere questo segreto dell'arte. Una donna, voi la disegnate, ma non la vedete. Non è così che si arriva a violare l'arcano della natura. La vostra mano riproduce senza che ve ne rendiate conto il modello che avete copiato dal vostro maestro. Non vi calate abbastanza nell'intimo della forma. Non la inseguite con sufficiente amore e perseveranza nei suoi avvolgimenti e nelle sue fughe. La bellezza è cosa severa e difficile, che non si lascia conquistare alla prima. Bisogna aspettare il momento in cui sia ben disposta, spiarla, starle alle costole e legarla solidamente per costringerla alla resa. La forma è un proteo ben più inafferrabile e ben più ricco di trappole di quello della favola. Solo dopo lunghe lotte è possibile costringerla a mostrarsi nella sua vera sembianza. Voi vi contentate di come vi si mostra il primo aspetto, tutt'al più al secondo o al terzo. Non è così che ci comportano i lottatori vincenti. I pittori invitti non si lasciano ingannare da nessun sotterfugio, ma insistono fin quando la natura non sia obbligata a mostrarsi nuda in tutta la sua verità. Così l'ha fatto Raffaello, disse il vecchio, levandosi la sua berretta di velluto nero a significare il rispetto ispiratogli dal re dell'arte. La sua eccellenza nasce dalla sostanza interna che in lui sembra voler infrangere la forma. La forma è, nelle sue figure, quello che essa è in noi, un tramite che ci comunica delle idee e delle sensazioni, una poesia di grande respiro. Ogni figura è un mondo, un ritratto il cui modello è apparso in una visione sublime, soffuso di luce, disegnato da una voce interiore, spogliato da un dito celeste che ha mostrato, nel passato di tutta una vita, le fonti stesse dell'espressione. Voi fate alle vostre donne delle belle vesti di carne, dei bei drappeggi di capelli, ma dov'è il sangue che suscita la calma o la passione e che causa ad ogni effetto particolare? La che ci fate passare davanti agli occhi? E questo voi chiamate pittura, questo chiamate arte. Per aver fatto qualcosa che somiglia più a una donna che a una casa, voi pensate di aver colto nel segno. E tutti fieri di non essere più obbligati a scrivere a lato delle vostre figure, Currus Venustus o Pulcheromo, come i pittori primitivi, vi immaginate di essere degli artisti meravigliosi. Non ci siete ancora, miei cari compagni, dovrete consumarne di matite e coprirne di tele prima di arrivarci. Certo, una donna tiene la testa eretta così, porta una gonna in questo modo, i suoi occhi si languidiscono e si struggono con quest'aria di dolcezza rassegnata. L'ombra palpitante delle ciglia alita così sulle guance. Ma è questo e non è questo. Cosa manca? Un niente, ma quel niente è tutto. Avete l'apparenza della vita, ma non esprimete la sua pienezza traboccante, quel qualcosa che forse è proprio dell'anima e che fruttua nebulosamente sopra l'involucro, quel fiore di vita, insomma, che hanno saputo sorprendere Tiziano e Raffaello. Partendo da quel meglio che avete ottenuto da voi stessi, potreste fare un'ottima pittura, ma vi stancate troppo presto. L'uomo volgare ammira, ma il vero intenditore sorride. Oh, mabuse, maestro mio, soggiunse quel singolare personaggio, tu sei un ladro, ti sei portata via alla vita con te. A parte questo, riprese, la tua tela vale più di tutti i dipinti di quel cialtrone di Rubens, con le sue montagne di ciccia fiamminga cosparse di vermiglio, con le sue ondate di capigliature rosse e col suo schiamazzo di colori. Almeno qui c'è colore, sentimento e disegno, i tre elementi essenziali dell'arte. Ma questa santa è sublime, signore, esclamò con forza il giovane, riscuotendosi in quel punto dalle sue profonde fantasticherie. Queste due figure, quella della santa e quella del barcaiolo, hanno un'intensità di pensiero sconosciuta ai pittori italiani. Io non saprei indicarne uno solo, che abbia saputo rendere l'indecisione del barcaiolo. — È vostro amico, questo curioso ragazzo? domandò porbio al vecchio. — Ahimè, maestro, perdonate il mio ordire, rispose il neofita, imporporandosi. — Non mi conosce nessuno. Sono un imbrattatele distinto, e sono arrivato da poco in questa città, fonte d'ogni sapienza. — Allora prova, gli disse allora porbì, dandogli una matita rossa e un foglio di carta. Il giovane sconosciuto copiò rapidamente la santa. — Oh oh! esclamò il vecchio. — Come vi chiamate? Il giovane scrisse sotto il disegno. — Nicolà Possan. — Non è niente male per un principiante, disse lo strano personaggio che parlava così avventatamente. Vedo che si può parlare di pittura davanti a te. Non ti riprovero di aver ammirato la santa di porbi. È per tutti un caporavoro. E solo chi si è iniziato ai più profondi misteri dell'arte può scoprirne le pecche. Ma, visto che tu sei degno della lezione e capace di intendere, ora ti farò vedere quanto poco ci vorrebbe per rifinire quest'opera. — Apri gli occhi e fa attenzione. Forse non ti si presenterà più un'occasione simile per imparare. — La tua tavolozza, porbì. Porbì andò a prendere la tavolozza e i pennelli. Il vecchio si rimboccò le maniche con un movimento brusco, convulso. Infilò il pollice nella tavolozza screziata e traboccante di colori che porbì gli tendeva. Gli strappò di mano, più che prendere, un mazzo di pennelli di varia grandezza. E la sua barba a punta si agitò in modo minaccioso, indizio dell'insorgere di una fantasia amorosa. Raccogliendo il colore con il pennello brontolava fra i denti. Ecco dei toni buoni per essere buttati dalla finestra insieme con chi li ha impastati. Sono ad una crudezza e ad una falsità rivoltanti. Come dipingere con questa roba? Poi immergeva con vivacità febbrile la punta del pennello nei diversi impasti di colore, a volte percorrendo nell'intera gamma più rapidamente di quanto un organista di cattedrale non percorra da un capo all'altro la tastiera allo figli di Pasqua. Parbì e Poussin se ne stavano immobili, ciascuno a un lato della tela, immersi nella più intensa contemplazione. Vedi ragazzo, diceva il vecchio senza voltarsi, vedi come con tre o quattro tocchi e una lieve velatura bluastra si poteva far circolare l'aria intorno alla testa di questa povera santa, che doveva sentirsi soffocare, oppressa in questa atmosfera pesante. Guarda come questo drappeggiora svolazza e come si capisce che è il vento a sollevarlo. Prima pareva una tela inabitata e appuntata con gli spilli. Osserva come il satinato lucente che ho appena passato sul petto renda bene il senso della spessa morbidezza di una pelle di fanciulla e come questo tono misto di rosso scuro ed ocra riscaldi la grigia freddezza di questa grande ombra, dove il sangue si rapprendeva invece di scorrere. Ragazzo, ragazzo, ciò che ti sto mostrando, nessun maestro saprebbe insegnartelo. Il solo Mabuse possedeva il segreto di rendere vive le sue figure. Egli ha avuto un solo allievo e quello sono io. Io non ne ho avuti e sono ormai vecchio. Tu sei abbastanza intelligente per indovinare il resto, dopo quello che ti ho lasciato intravedere. Senza smettere di parlare, lo strano vecchio li toccava dappertutto il quadro. Qua due colpi di pennello, la uno solo, ma sempre così indovinati, che la si sarebbe detta un'altra pittura, tutta impregnata di luce. Egli lavorava con un ardore così appassionato che il sudore gli imperlava la testa calva, che si dava da fare così alla svelta, con piccoli movimenti così scattanti, così a sbalzi, che al giovane Poussin pareva che in quel bizzarro personaggio abitasse un demonio, che agisse per il tramite delle sue mani e che le possedesse totalmente, contro la stessa volontà del vecchio. Il lampeggiare sovrannaturale degli occhi, i movimenti convulsi che sembravano effetto di una resistenza, conferivano a questa idea una parvenza di verità che certamente doveva colpire la fantasia di un giovane. Il vecchio ora diceva, paff, 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 ecco come si imburra, ragazzo, forza, miei piccoli tocchi, fatemi rosseggiare questo tono glaciale. Orsù, esclamava rendendo più calde quelle parti dove aveva segnalato un difetto di vitalità, facendo scomparire con qualche tratto di colore e contrasti troppo forti e ristabilendo l'unità di tono richiesta da un'ardente egiziana. Vedi, ragazzo, è l'ultimo tocco di pennello che conta. Porbi ne aveva dati cento e io non ne do che uno. Nessuno ci è grato per quanto sta sotto, ricordalo bene. Infine quel demonio si fermò e voltandosi verso Porbi e Poussin, muti d'ammirazione, disse loro. Questo non vale ancora la mia belle noise, eppure si potrebbe mettere il proprio nome sotto un'opera simile. Sì, la firmerei, soggiunse alzandosi per prendere uno specchio in cui la osservò. Ma ora andiamo a mangiare, disse. Venite tutti e due a casa mia. Ho del prosciutto affumicato e del buon vino. Eh, ma in grado questi tempi sciagurati parleremo di pittura. Ne siamo capaci, noi. Ecco un giovanotto, aggiunse battendo la spalla di Nicolas Poussin, che ha disposizione. E notando solo allora la misera casacca del normanno, staccò dalla sua cintura una borsa di pelle, di frugò, prese due monete d'oro e mostrandogli le. Compro il tuo disegno, gli disse. Prendile, disse Porbi e Poussin, vedendolo trasalire e arrossire dalla vergogna, poiché il giovane adepto aveva l'orgoglio del povero. Prendi, su, lui ne apri il riscatto di due re. Tutti e tre scesero dallo studio e camminarono discorrendo d'arte fino alla bella casa di legno, presso il ponte Saint-Michel, i cui ornamenti, il picchiotto, le ampie cornici delle finestre, gli arabeschi riempirono di meraviglia Poussin. Aspirante pittore si trovò a un tratto in una sala, davanti a un bel fuoco e a una tavola ricca di cibi appetitosi, e in più, per colmo di felicità, in compagnia di due grandi artisti pieni di affabilità. «Giovanotto», disse Porbi, vedendolo in estasi davanti a un quadro, «non guardate troppo questa tela, ne ricavereste solo disperazione». Era l'Adamo che Mabuse dipinse per uscire di prigione, dove i creditori lo avevano fatto restare tanto a lungo. Quella figura comunicava di fatti un senso di realtà così possente che Nicolas Poussin cominciò allora a intendere il vero significato del discorso confuso del vecchio. Costui guardava il quadro con aria soddisfatta, ma senza entusiasmo, e pareva dicesse, «Io ho fatto di meglio». «C'è vita», disse il mio povero maestro, qui superò se stesso, ma manca ancora un po' di verità nello sfondo della tela. L'uomo è ben vivo, pare che ci venga incontro. Ma l'aria, il cielo, il vento che respiriamo, che vediamo e sentiamo, non ci sono. E poi qui non c'è che un uomo. Ora, il solo uomo che sia uscito direttamente dalle mani di Dio doveva avere qualcosa di divino, che qui manca, lo diceva anche Mabuse con dispetto quando non era ubriaco. Poussin guardava alternativamente con inquieta curiosità il vecchio e porbi. Si avvicinò a quest'ultimo quasi domandandogli il nome del loro ospite, ma il pittore si mise un dito sulla bocca con aria di mistero, e il giovane più che mai incuriosito restò zitto, sperando che prima o poi qualche parola gli avrebbe permesso di indovinare il nome del suo ospite, la cui ricchezza e il cui talento erano sufficientemente testimoniati dal rispetto che porbi gli dimostrava e dalle meraviglie ammucchiate in quella sala. Scoprendo sulla scura Boiserie di Quercia, un magnifico ritratto di donna, Poussin esclamò, che bel Giorgione. No, ribatte il vecchio, quello che vedete è uno dei miei primi impiastri. Per Dio, ma allora io sono in casa del Dio della pittura, esclamò ingenuamente Poussin. Il vecchio sorrise come chi sia da tempo abituato a simili lodi. Maestro Frenhofer, gli disse allora porbi, non vorreste portare un po' del vostro buon vino del Reno? Due boccali, rispose il vecchio, uno per festeggiare il piacere avuto stamattina nel vedere la tua bella peccatrice, l'altro per dimostrarti la mia amicizia. Ah, se io non fossi sempre malato, disse porbi, e se voi voleste lasciarmi vedere la vostra bella noisè, forse potrei dipingere una nobile pittura, grande e profonda, con figure a grandezza naturale. «Mostrarvi la mia opera?» gridò il vecchio quasi sconvolto. «No, no! Devo ancora perfezionarla. E arrivare so sera ho creduto ad aver finito. I suoi occhi mi sembravano umidi. La carne palpitava. Le trezze dei suoi capelli si muovevano. Ella respirava. Sebbene abbia trovato il modo di rendere sulla superficie piana ad una tela, il rilievo e la rotondità della natura, stamattina alla luce del giorno ho riconosciuto d'aver sbagliato. Ah, per arrivare a quel risultato glorioso ho studiato a fondo i grandi maestri del colore. Ho analizzato e scomposto strato a strato i quadri di Tiziano, re della luce. Come quel pittore sovrano ho abbozzato la mia figura in una tonalità chiara, con un impasto morbido e nutrito. Perché l'ombra non è che un accidente, ricordalo, ragazzo. Poi sono tornato sulla mia opera e con delle mezze tinte e con delle velature con le quali diminuivo sempre più la trasparenza, ho reso le ombre più cariche, fino al nero di quelle più fonde. Perché le ombre dei pittori ordinari hanno una natura diversa dai loro toni chiari. Sono legno, bronzo, tutto quello che volete, ma non la carne nell'ombra. Si sente che se le loro figure cambiassero posizione le zone in ombra non si schiarirebbero e non diverrebbero luminose. Io ho evitato questo difetto, nel quale sono caduti alcuni anche fra i più illustri, e nella mia opera la bianchezza si indovina anche sotto l'ombra più spessa. E non ho marcato con durezza i contorni della mia figura, ma ho fatto risaltare anche i più piccoli particolari anatomici. Perché il corpo umano non finisce con una linea come crede quella folla di ignoranti che pensano di saper disegnare perché esprimono un tratto meticolosamente sottile. E in questo gli scultori possono avvicinarsi alla verità più di noi. La natura è un insieme di volumi rotondi che si risolvono l'uno nell'altro. Rigorosamente parlando, il disegno non esiste. Non ridete, ragazzo. Per quanto tale affermazione possa sembrarvi strana, fra poco ne capirete i motivi. La linea è il mezzo con il quale l'uomo si rende conto dell'effetto della luce sugli oggetti, ma in natura non ci sono linee. Tutto è pieno. È modellando che disegniamo, cioè che distacchiamo le cose dal mezzo nel quale si trovano. Solo la distribuzione della luce rende a un corpo il suo aspetto. Perciò io non ho definito nettamente i lineamenti, ma ho diffuso sui contorni una nube di mezze tinte dorate e calde che fanno sì che non si saprebbe posare il dito con sicurezza là dove i contorni si incontrano con lo sfondo. Da vicino il mio lavoro sembra lanuginoso e impreciso, ma se si guarda a due passi tutto si rassoda, si precisa e si staglia. I corpi sono rotondi, le forme acquistano rilievo, le figure si staccano. Eppure non sono ancora contento. Ho dei dubbi. Forse bisognerebbe non disegnare affatto e sarebbe meglio cominciare una figura dal mezzo, occupandosi prima dei rilievi più in luce per passare poi alle zone più oscure. Non procede così il sole, questo divino pittore dell'universo. Oh natura, natura, chi è mai riuscito a sorprenderti nelle tue fughe? Ecco l'eccesso di sapere, così come l'ignoranza porta alla negazione. Io dubito della mia opera. Il vecchio fece una pausa poi riprese. Sono dieci anni ragazzo che lavoro, ma cosa sono dieci brevi anni quando si tratta di lottare con la natura? Noi non sappiamo quanto tempo impiegò il grande pigmaglione per compiere la sola statua che abbia camminato. Il vecchio cadde in una profonda fantasticheria e rimase ad occhi fissi, giocando meccanicamente col suo coltello. «Eccolo che discorre col suo genio», disse sottovoce Porby. A tali parole Nicola Pussain si sentì pervaso da un'invincibile curiosità d'artista. Quel vecchio, dagli occhi bianchi, attento e sbalordito, divenuto per lui sovrumano, gli apparve come un genio fantastico che vivesse in una sfera sconosciuta. Mille idee confuse gli si ridestavano nell'animo. Non si può descrivere l'effetto di questa sorta di incantesimo sullo spirito, così come non si può tradurre in parole la commozione suscitata nel cuore dell'esule a un canto che ricordi la patria. Il disprezzo che quel vecchio mostrava di esprimere per le più belle prove dell'arte. La sua ricchezza, i suoi modi, la deferenza di Porby verso di lui, quell'opera tenuta così a lungo segreta. Opera di pazienza, di genio, senza dubbio, a giudicare dalla testa di vergine che il giovane Pussain aveva così sinceramente ammirato e che, bella anche se confrontata all'Adamo di Mabuse, testimoniava dell'opera sovrana di un principe dell'arte. Tutto, in quel vecchio, oltrepassava i limiti della natura umana. Quel che la fervida immaginazione di Nicolà Pussain poté intuire e percepire nitidamente in quell'essere sovrannaturale era l'immagine perfetta del temperamento artistico, quel bizzarro temperamento cui tanti poteri sono concessi e del quale troppo spesso abusano i borghesi, e anche alcuni amatori d'arte che si lasciano condurre dalla fredda ragione lungo sentieri accidentati, dove ad essi non pare vi sia nulla, mentre, burlone e fantasioso, quel fanciullo dalle bianche ali vi scopre epopee, castelli, opere d'arte, temperamento giocoso e bonario, fecondo e misero. Così, per l'appassionato Pussain, quel vecchio si era trasformato in un'improvvisa trasfigurazione nell'arte in persona, con i suoi segreti, i suoi impeti, i suoi sogni. «Sì, mio caro Porby», riprese Frenhofer, «non sono finora riuscito ad incontrare una donna senza pecche, un corpo dalle forme di perfetta bellezza e dall'incanto. Ma dove si trova? Si chiese interrompendosi questa introvabile venere degli antichi, tanto cercata e della quale noi rinveniamo appena qualche frammento di bellezza. Oh, darei tutta la mia fortuna per vedere un momento, una sola volta, la natura divina perfetta, la forma ideale, insomma. Ma verrò a cercarti nel tuo limbo, celeste bellezza. Scenderò come Orfeo nell'inferno dell'arte, per riportarne sulla terra la vita. «Possiamo andare via da qui», disse Porby a Pussain. «Lui non ci sente e non ci vede più». «Andiamo nel suo studio», propose il giovane, strabiliato. «Oh, il vecchio volpone ha saputo difenderne bene l'accesso. I suoi tesori sono troppo ben custoditi perché noi possiamo arrivarci. Non avrei certo dovuto aspettare il vostro consiglio e il vostro capriccio per tentare l'assalto al mistero». «Ca un mistero, dunque?» «Sì», rispose Porby. «Il vecchio Frenhofer è il solo allievo che Mabuse abbia avuto, diventato suo amico, suo salvatore, suo protettore. Frenhofer ha sacrificato la maggior parte dei suoi tesori per soddisfare le passioni di Mabuse. In cambio, Mabuse gli ha tramandato il segreto del rilievo, il potere di trasmettere alle figure quella vita straordinaria, quel fiore della natura, nostra eterna disperazione, della quale egli possedeva in tal misura la tecnica che un giorno, essendosi Mabuse venduto e bevuto il costume di Damasco, che doveva indossare alla presenza di Carlo V, Frenhofer si accompagnò al suo maestro. Indossava un abito di carta, dipinta come fosse Damasco. Il singolare splendore della stoffa di Mabuse stupì l'imperatore, che volendo complimentarsi col protettore del vecchio ubriacone, venne a scoprire il trucco. Frenhofer è un appassionato della nostra arte, che vede più lontano e più in alto degli altri pittori. Ha meditato profondamente sui colori, sull'intima essenza della linea, ma a forza di ricerche è arrivato a dubitare dell'oggetto stesso delle sue indagini. Nei momenti di sconforto pretende che il disegno non esista e che solo le figure geometriche possano riprodursi con le linee, il che non è vero dal momento che con la linea e l'ombreggiatura, che non è colore, si può ben rappresentare una figura. Ciò prova che la nostra arte, come la natura, è composta ad una infinità di elementi. Il disegno dà lo scheletro, il colore la vita, ma la vita senza lo scheletro è cosa più incompleta dello scheletro senza la vita. Infine c'è qualcosa di più vero di tutto questo, ed è che la pratica e l'osservazione sono tutto per un pittore, e se il ragionamento e la poesia litigano con i pennelli si finisce nel dubbio, come è accaduto al nostro bravuomo che è insieme pazzo e pittore. Pittore sublime, ha avuto la sfortuna di nascere ricco e che gli ha permesso di divagare. Non imitatelo, lavorate, i pittori devono ragionare solo con i pennelli in mano. Eppure ci entreremo, gridò Poussin senza ascoltare più Porvi, è sicuro di sé. Porvi sorrise dell'entusiasmo del giovane ancora sconosciuto, e lo lasciò invitandolo ad andare a trovarlo. Nicolas Poussin tornò a passi lenti verso Rue delle Harpe, e senza accorgersene, oltrepassò la modesta locanda dove alloggiava. Salitele quindi con agiata sveltezza le scale miserabili, arrivò a un abbaino situato sotto un tetto a colombaio, semplice e leggiadra copertura delle case della vecchia Parigi. Presso l'unica tetrafinestra di quella camera si trovava una fanciulla, che al rumore della porta si levò subito in uno slancio d'amore. Aveva riconosciuto il pittore dal modo di tirare il chiavistello. «Che hai?» gli chiese. «Oh!» esclamò Poussin soffocando dalla gioia. «Oh! Che mi sono sentito un pittore! Avevo dubitato fino ad oggi, ma stamattina ho creduto in me stesso. Posso essere grande. Su, Gillette, saremo ricchi, felici, c'è oro in questi pennelli!» Ma tutto un tratto d'acque, il suo volto grave ed energico persa ogni espressione di gioia, quando si trovò a commisurare l'immensità di tali speranze con la scarsezza dei propri mezzi. Le pareti erano coperte di semplici foglie di carta, pieni di schizzi a matita. Non possedeva quattro tele pulite, i colori costavano molto, allora, e il povero giovane vedeva la sua tavolozza quasi nuda. Ma pur in mezzo a tanta miseria egli possedeva e sentiva in sé una incredibile ricchezza d'animo e lo stralipare di un genio divorante. Condotto a Parisi da un gentiluomo suo amico, o forse dal suo stesso talento, vi aveva incontrato subito un'amica, una di quelle anime nobili e generose che accettano di soffrire accanto a un grand'uomo, ne sposano le pene e si sforzano di comprenderne i capricci, forti nella miseria e nell'amore, così come altre sono intrepide nel lusso e nel far sfoggio di insensibilità. Il sorriso errante sulle labbra di Gillette illuminava quella soffitta e rivaleggiava con lo splendore del cielo. Il sole non brillava sempre, ma lei invece era sempre là, raccolta nella sua passione, avvinta alla sua felicità, alla sua sofferenza, a consolare il genio che traboccava nell'amore prima di impadronirsi dell'arte. Ascolta, Gillette, vieni. Obediente e allegra, la fanciulla saltò sulle ginocchia del pittore. Era tutta leggiadra, tutta bellezza, gentile come una primavera, ornata di tutte le grazie femminili che la rendeva più vive col fuoco di un'anima bella. Oddio, esclamò lui. Non oserò mai dirle. Un segreto, ribatte lei. Voglio saperlo. Bussin restò trassognato. Parla dunque. Gillette, povero cuor mio. Oh, vuoi qualcosa da me? Sì. Se desideri che posi ancora davanti a te come l'altro giorno, riprese lei con un'aria un po' imbronciata, non la consentirò mai più. In quei momenti i tuoi occhi non mi dicono più niente. Tu non pensi più a me e così mi guardi, preferiresti vedermi copiare un'altra donna? Forse, disse lei, se fosse brutta abbastanza. Ebbene, continuò Bussin in tono serio, se per la mia gloria futura, se perché io diventi un gran pittore, tu dovessi posare davanti a un altro? Mettimi pure alla prova, rispose lei. Sai bene che non ci andrei. Bussin abbassò la testa sul petto, come un uomo che soccomba a una gioia o a un dolore troppo forti per la sua anima. Ascolta, disse lei tirandolo per la manica della giubba Lisa. Io t'ho detto, Nick, che darei la mia vita per te, ma t'ho anche promesso che non avrai mai rinunciato al tuo amore finché io viva. Rinunciare, esclamò il giovane artista. Se mi mostrassi a un altro, tu non mi ameresti più e io stessa mi riterrai indegna di te. Obedire ai tuoi capricci non è per me una cosa semplice e naturale. Mio malgrado sono felice e anche fiera di fare quel che tu vuoi, ma per un altro un corno. Perdonami, gilet mia, disse il pittore gettandosi ai suoi piedi. Preferisco essere amato che diventare famoso. Tu sei per me più bella del successo e della gloria. Butta via i miei pennelli, brucia i miei schizzi. Ho sbagliato. La mia vocazione è amarti. Non sono un pittore, ma un innamorato. Vadano al diavolo, l'arte e tutti i suoi segreti. Ella lo guardava felice, incantata. Si sentiva una regina. Avvertiva istintivamente che l'arte intera era stata dimenticata in suo nome e gettata ai suoi piedi come un granello d'incenso. E comunque non è che un vecchio, riprese Poussin. Non potrà vedere in te che è una figura femminile. Sei perfetta. Va bene amarti, esclamò Gillette, pronta a sacrificare i suoi scrupoli d'amore per ricompensare il suo amante di tutti i sacrifici che faceva per lei. Ma, soggiunse, questo significherebbe perdermi. Ah, perdermi per te. Sì, sarebbe bellissimo, ma tu mi dimenticherai. Oh, che brutta idea che è venuta. Mi è venuta, eppure ti amo, disse lui con una sorta di contrizione. Sono dunque un infame. Sentiamo cosa ne pensa padre Arduin, disse lei. Oh no, deve rimanere un segreto tra noi due. Va bene, andrò. Ma tu non entrare. Resta sulla porta, con la tua daga. Se grido, entra e ammazza il pittore. Preoccupato solo della sua arte, Poussin strinse Gillette fra le braccia. Non mi ama più, pensò Gillette quando rimase sola. Si pentiva già della sua decisione, ma fu presto in balia di una paura più crudele del pentimento, e cercò di cazzar via un pensiero odioso che l'era penetrato nel cuore. Le pareva di amare già meno il pittore, sospettandolo meno meritevole di stima di quanto avesse pensato. Chatrin Lescaux Tre mesi dopo l'incontro con Poussin, Bourbis si recò a far visita al maestro Ferenhofer. Il vecchio era in preda ad uno di quei periodi di scoraggiamento profondo e incontrollabile, le cui cause sono da ricercare, a voler credere agli scienziati della medicina in una cattiva digestione, nel vento, nel caldo o in qualche spessimento dell'ipocondrio, oppure, secondo i moralisti, nell'imperfezione della nostra natura morale. Il bravo uomo sarà semplicemente stancato nel perfezionare il suo misterioso quadro. Abbandonato su un'ampia sedia di querza scolpita e guarnita di cuoio nero, senza flettere dal suo atteggiamento malinconico, egli sollevò su Bourbis lo sguardo di un uomo ormai rassegnato al vuoto. Allora, maestro, gli disse Bourbis, non era buono l'oltremare che avete trovato a Bruges? Forse non siete riusciti a macinare un nuovo bianco? L'olio è di cattiva qualità o sono i pennelli che oppongono resistenza? Ahimè, esclamò il vecchio, per un momento ho creduto che la mia opera fosse finalmente compiuta, ma certo mi sono ingannato in qualche particolare e non sarò tranquillo finché non avrò chiarito i miei dubbi. Mi deciderò a mettermi in viaggio. Andrò in Turchia, in Grecia, in Asia, per cercarvi un modello e confrontare il mio quadro con nature diverse. Forse laggiù, riprese, lasciandosi sfuggire un sorriso di contentezza, laggiù io potrò possedere la natura stessa. A volte ho quasi paura che un alito lieve svegli quella donna e che la scompaia. Poi si alzò di scatto, come per andar via. Oh oh, rispose Porby, arrivo giusto in tempo per risparmiarvi le spese e gli strapazzi del viaggio. Cosa? domandò stupito Frenhofer. Il giovane Poussin è amato da una donna la cui incomparabile bellezza non conosce imperfezioni. Ma, caro maestro, si accetterà di prestarcela? Bisognerà che almeno ci lasciate vedere la vostra tela. Infatti restò in piedi, immobile, in uno stato di completo inebetimento. Come? gridò infine con angoscia. Mostrare la mia creatura? La mia sposa? Strappare il velo con il quale ho pudicamente rivestito la mia felicità? Ma sarebbe un'orribile prostituzione. Sono dieci anni ormai che vivo con quella donna. Ella è mia, solo mia. E mi ama. Non mi ha forse sorriso ad ogni pennellata che le ho dato? Ha un'anima. L'anima che le ho dato io. Arrossirebbe, se occhi diversi dai miei le si posassero addosso. Mostrarla ad altri. Ma quale marito, quale amante sarebbe così spregevole da condurre la propria donna al disonore? Quando dipingi un quadro per la corte, non ci metti tutta l'anima. Ti limiti a vendere ai cortigiani dei manichini colorati. Ma la mia creatura non è solo pittura. È sentimento, passione. Nata nel mio studio, deve restarci vergine. Non può uscirne se non vestita. La poesia e le donne si abbandonano nude solo ai loro amanti. Possediamo forse la modella di Raffaello, l'angelica dell'Ariosto, la beatrice di Dante? No, non ne abbiamo che le immagini. Ebbene, l'opera che tengo lassù, sotto chiave, è un'eccezione nella nostra arte. Non è una tela. È una donna. Una donna con la quale io piango, rido, parlo e penso. Vuoi che tutto a un tratto abbandoni la felicità di dieci anni così come si butta via un abito vecchio? Che c'essi a un tratto ad essere padre, amante, Dio? Quella donna non è una creatura. È una creazione. Che venga il più giovane. Gli darò i miei tesori. Gli darò quasi del correggio di Michelangelo, di Tiziano. Bacerò l'impronta dei suoi passi nella polvere. Ma farne il mio rivale? Mai. Ah, ah, sono certamente più amante che pittore. Sì, avrò la forza di bruciare la mia belle nocese in punto di morte. Ma farle subire lo sguardo di un uomo, di un giovane, di un pittore? Mai. Ucciderai senza indugio chi l'avesse insozzata col suo sguardo. Ucciderai immediatamente anche te, amico mio, se non ti inginocchiassi davanti a lei. Vuoi dunque che esponga il mio idolo agli sguardi freddi e alle stupide critiche degli imbecilli? Ah, l'amore è un mistero. Vive solo nell'intimo dei nostri cuori. E tutto è perduto quando un uomo dice «fossa anche a un amico». Ecco, colei che amo. Il vecchio sembrava tornato giovane. I suoi occhi scintillavano di vita. Le sue guance pallide erano soffuse di un vivo rossore. Le mani tremavano. Corby, stupefatto dalla violenza appassionata con la quale quelle parole erano state pronunciate, non sapeva che dire di fronte all'esplosione di un sentimento così insolito e profondo. Frenhofer era savio o pazzo? Era preda di una fantasticheria artistica? O quelle idee scaturivano direttamente da quel particolare fanatismo che nasce in noi per la lunga gestazione di una grande opera? Come ci poteva sperare di venire a patti con quella passione stravagante? Premuginando tali pensieri, Porby disse al vecchio «Ma non si tratta di una donna in cambio di un'altra? Pussain non espone forse la sua amante ai vostri sguardi?» «Ma quale amante?» rispose Frenhofer. «Prima o poi lo tradirà. La mia mi sarà sempre fedele». «Bene, non parliamone più», disse Porby. «Ma prima che abbiate trovato anche in Asia una donna bella, perfetta come quella della quale vi parlo, forse morirete senza aver terminato il vostro quadro». «Ma è finito», disse Frenhofer. «Chi lo guardasse crederebbe di vedere una donna sdraiata su un letto di velluto, sotto le cortine. Vicino a lei un tripode d'oro esala profumi. Si sarebbe tentati di tirare la nappa dei cordoni che trattengono i tendaggi. E allora sembrerebbe di vedere il seno di Catherine Lescaux, una bella cortigiana chiamata la Belle Noises, sollevarsi nel respiro. «E tuttavia vorrei essere ben sicuro. Va, dunque, in Asia», riprese Porby, scorgendo una certa esitazione nello sguardo di Frenhofer, e mosse qualche passo verso la porta della sala. Proprio in quel momento Cillette e Nicolas Pussain arrivavano all'abitazione di Frenhofer. La giovane, al momento d'entrare, si staccò dal braccio del pittore e si trasse indietro, come se fosse stata colta da un improvviso presentimento. «Ma cosa vengo a fare, qui?» chiese al suo amante in tono grave, guardandolo fisso. «Cillette, tu sei la mia padrona e voglio obbedirti in tutto. Tu sei la mia coscienza e la mia gloria. Torna a casa. Torna a casa. Ne sarò più contento, forse, che se tu sono forse libera di fare quel che voglio quando mi parli così. Oh no, non sono che una bambina. Andiamo», soggiunse, come facendo violenza a se stessa. «Se il nostro amore morirà, colmandomi il cuore di un infinito rimpianto, la tua celebrità non sarà forse il premio d'aver obbedito ai tuoi desideri? Entriamo. Sentirò di vivere ancora, invece di rimanere come un ricordo sulla tua tavolozza». Nell'aprire la porta di casa, i due amanti si trovarono faccia a faccia con Porbus, che colpito dalla bellezza di Gillette, i cui occhi erano ancora pieni di lacrime, la spinse tutta tremante davanti al vecchio. «Eccola», disse, «questa donna non vale forse tutti i capolavori del mondo?» Renhofer trassalì. Gillette era là davanti a lui, nell'atteggiamento semplice e ingenuo di una giovane georgiana innocente e spaurita, catturata dai briganti e offerta a un mercante di schiavi. Un rossore pudico copriva il suo volto. Ella teneva gli occhi bassi, le braccia pendenti lungo i fianchi. Le forze sembravano venirle meno e le sue lacrime esprimevano protesta per la violenza fatta al suo pudore. Allora Poussin, disperato per gli effetti della sua bella idea, maledisse se stesso, si sentì più innamorato che artista e fu assalito da mille scrupoli di fronte allo sguardo ravvivato del vecchio, che per un'abitudine di pittore spogliò, per così dire, la fanciulla indovinando nelle più segrete fattezze. E fu riafferrato a quel punto dalla fiera gelosia che si accompagna al vero amore. «Andiamo via, Gillette», gridò. A quella voce, a quel grido, la ragazza si volse a guardarlo radiosa e corse fra le sue braccia. «Allora mi ami», esclamò sciogliendosi in lacrime. Dopo aver avuto la forza di celare la propria sofferenza, ora ne mancava l'energia per nascondere la propria gioia. «Oh, lasciatemela un momento», disse il vecchio pittore, «e la potrete mettere a confronto con la mia Katrin. Sì, ve lo consento». «C'era ancora amore», nell'esclamazione di Frenhofer. Sembrava che egli si comportasse con civetteria verso il suo ritratto e che godesse in anticipo del trionfo che la bellezza della sua creazione avrebbe riportato su quella di una giovinetta in carne ed ossa. «Non dategli il tempo di ripensarci», esclamò allora Porbus, scuotendo per le spalle Poussin. «I frutti dell'amore appassiscono presto, quelli dell'arte sono immortali». «Per lui», rispose Gillette, guardando attentamente Porbus e Poussin, «io non sono dunque niente più di una donna», alzò il capo con fierezza. «Ma quando dopo aver fissato con occhio scintillante Frenhofer e la vide il suo amante di nuovo intento a osservare il ritratto che una volta aveva preso per un giorgione...» «Ah, saliamo», disse, «io non sono mai stata guardata così». «Vecchio», disse allora Poussin, che la voce di Gillette aveva distolto dalla contemplazione. «Guarda questa spada, te la caccerò nel cuore al primo lamento di questa ragazza, darò fuoco alla tua casa e nessuno ne uscirà vivo, ha inteso?» Nicolas Poussin era turvo e le sue parole suonarono terribili. «Queste e soprattutto il suo gesto», rincuorarono Gillette, che quasi gli pertonò di sacrificarla alla pittura e al suo avvenire glorioso. Porbiu e Poussin restarono sulla porta dello studio, guardandosi in silenzio. All'inizio, il pittore della Maria Egiziaca si permise dei commenti. «Ora lei... ora lei si sta spogliando...» «Ora lei si sta spogliando...» «Lui le ha detto di mettersi nuda... ora la confronta...» Ma l'espressione profondamente triste di Poussin lo fece presto tacere. E benché i vecchi pittori non avvertano simili scrupoli di fronte all'arte, egli ne fu ammirato, tanto gli parvero gentili e ingenui in Poussin. Il giovane teneva la mano sull'impugnatura della daga, l'orecchio quasi incollato alla porta. I due, così in piedi, nell'ombra, parevano cospiratori in attesa del momento di assassinare un tiranno. «Entrate, entrate!» gridò loro il vecchio, raggiante di felicità. «La mia opera è compiuta, e ora posso mostrarla con orgoglio!» Mai, pittore, pennelli, colori, tela e luce, fecero nulla che potesse rivaleggiare con Catherine Les Coles, la bella cortigiana. Sospinti da una viva curiosità, Poulbou e Poussin entrarono di corsa in un vasto studio polveroso, dove regnava il disordine, e fidero qua e là dei quadri attaccati alle pareti. Si fermarono prima davanti a una figura di donna a grandezza naturale, a metà nuda, che suscitò la loro ammirazione. «Oh, non confondetevi con quella», disse Frenhofer. «È una tela che ho impastricciata per studiare una posa. Quel quadro non vale niente. Ecco i miei errori», continuò mostrando loro delle stupende composizioni, appese tutto intorno. A siffatte parole, Poulbou e Poussin, stupiti da un simile disprezzo per quelle opere, si volsero intorno alla ricerca del ritratto promesso, senza riuscire a vederlo. «Ebbene, eccolo», disse loro il vecchio scarmigliato, il volto acceso da un'eccitazione sovrannaturale, gli occhi sfavillanti e affannato come un giovane ebro d'amore. «Ah», gridò, «non vi aspettavate tanta perfezione. Siete di fronte ad una donna e cercate un quadro. C'è tanta profondità in questa tela, è così vera la sua atmosfera, che non potete più distinguerla da quella che ci circonda. Dov'è l'arte? Perduta, scomparsa. Ecco le forme autentiche di una giovinetta. Non è forse completamente affermato il colore, la nettezza del contorno che par delimitarne il corpo? Non è lo stesso fenomeno per cui gli oggetti che vediamo sono immersi nell'atmosfera come pesci nell'acqua? Ammirate come i contorni si staccano dal fondo. Non vi sembra di poter passare la mano su questo dorso? Così, per sette anni, ho studiato gli effetti del combinarsi della luce e degli oggetti. E questi capelli non sono inondati di luce? Ma lei ha respirato, mi pare. Questo seno, vedete? Ah, chi non vorrebbe adorarlo? In ginocchio. Le carni palpitano. Ella sta per alzarsi. Aspettate. Vedete qualcosa voi? domandò Pussegna Porbu. No. E voi? Niente. I due pittori lasciarono il vecchio alla sua estasi. Cercarono di vedere se la luce, che investiva in pieno la tela loro mostrata, non ne neutralizzasse tutti gli effetti. Esaminarono quindi la pittura, spostandosi a destra, a sinistra, di faccia, abbassandosi ed alzandosi ripetutamente. Sì, sì che è una tela, diceva Frenhofer, ingannandosi sul motivo di quello scrupoloso esame. Guardate, ecco il telaio, il cavalletto e infine i miei colori, i miei pennelli. Presa in mano un pennello mostrandolo con un gesto ingenuo. Il vecchio lanzichenecco si fa beffe di noi, disse Pussegna, tornando davanti al preteso quadro. Io qui non vedo che un ammasso confuso di colori, delimitati da una quantità di linee bizzarre che formano una muraglia di pittura. Ci sbagliamo, guardate, riprese Porbu. Avvicinandosi, essi videro in un angolo della tela la punta di un piede nudo che sbucava da quel caos di colori, tonalità, sfumature indecise, simile a una nebbia informe. Ma un piede delizioso, un piede vivo. Restarono pietrificati d'ammirazione, davanti a quel frammento sfuggito a un'incredibile, lenta, progressiva distruzione. Quel piede stava là come il torso di una venere in marmo di paro che si innalzasse in mezzo alle rovine di una città incendiata. — C'è una donna, là sotto, esclamò Porbu, facendo notare a Poussin gli strati di colore che il vecchio pittore aveva di volta in volta sovrapposto, credendo di perfezionare la sua opera. I due artisti si volsero istintivamente verso Frainhofer, cominciando a capire vagamente l'estasi nella quale viveva. — È in buona fede, disse Porbu. — Sì, amico mio, rispose il vecchio riscuotendosi, occorre aver buona fede, fede nell'arte, e vivere a lungo con la propria opera per produrre una simile creazione. Alcune di queste ombre mi sono costate un gran lavoro. Guardate là, sulla guancia, sotto gli occhi, c'è una lieve ombreggiatura che se l'osservate in natura vi sembrerà irrealizzabile. Ebbene, mi credete se vi dico che ottenere quell'effetto mi è costato pene inaudite? Guarda, caro Porbu, guarda con attenzione il mio lavoro e capirai meglio quello che ti dicevo sul modo di trattare il modello e i contorni. Guarda la luce del seno e osserva come, con una successione di tocchi e lumeggiature, molto elaborate, sono arrivato a fermare la vera luce e a combinarla col bianco splendente dei toni chiari. E come all'opposto, facendo scomparire il rilievo e la granulosità della pasta, ho potuto, a forza di carezzare il contorno della mia figura, annegata nella mezza tinta, eliminare perfino l'idea del disegno e renderle l'aspetto e la rotondità stessa della natura. Avvicinatevi, osserverete meglio il mio lavoro. Da lontano scompare. Ecco, là. Credo che sia piuttosto notevole. E con la punta del pennello indicava ai due pittori un pasticcio di colore chiaro. Porbu batte sulla spalla del vecchio, voltandosi verso Poussin. Sapete che costui è un grandissimo pittore, disse. È un poeta, prima ancora che un pittore, rispose gravemente Poussin. Questo segna il limite della nostra arte sulla terra, le prese Porbu toccando la tela. E oltre questo limite, essa si perde nei cieli, disse Poussin. Quante delizie su questa piccola superficie di tela, esclamò Porbu. Il vecchio, assorto, non li ascoltava e sorrideva a quella donna immaginaria. Ma finirà pure per accorgersi, prima o poi, che non c'è niente sulla tela, esclamò Poussin. Niente sulla mia tela, disse Frenhofer, guardando alternativamente i due pittori e il suo preteso quadro. Che avete combinato, disse sottovoce Porbu a Poussin. Il vecchio afferrò per le braccia con tutta la sua forza il giovanotto e gli disse. Tu non vedi niente, tanghero, gaglioffo, bandito, canaglia. Che sei venuto a fare qui, allora? Mio buon Porbu, seguitò quindi volgendosi verso il pittore. Vi fate gioco di me anche voi? Rispondete. Sono vostro amico. Ditemi, avrai dunque sciupato il mio quadro? Porbu, indeciso, non osò dir nulla. Ma così crudele era l'ansia dipinta sulla faccia del vecchio, che infine gli indicò la tela dicendo. Guardate. Frenhofer contemplò un momento il suo quadro e vacillò. Niente. Niente. E ci ho lavorato dieci anni. Si sedette e pianse. Sono dunque un imbecille. Un pazzo. Non ho dunque né talento né capacità. Non sono altro che un ricco che in vita sua sia mosso sempre a vuoto. Non avrei prodotto niente allora. Contemplò la sua tela attraverso le lacrime. Si levò in piedi di scatto, con fierezza, e gettò sui due pittori uno sguardo sfavillante. Per il sangue, per il corpo, per la testa di Cristo. Voi siete solo dei gelosi e volete farmi credere d'aver sciupato la mia tela per portarmela via. Ma io la vedo. Lei! gridò. Ed è meravigliosamente bella. In quel momento Pussegu di singhiotti di Gillette, dimenticata in un angolo. Che hai, angelo mio? Le domandò il pittore, tornando a un tratto alla sua tenerezza. Uccidimi, disse lei. Sarei un infame se ti amassi ancora, dal momento che ti disprezzo. Ti ammiro e mi fai orrore. Ti amo e mi pare già di odiarti. Mentre Pussegu ascoltava Gillette, Frenhofer ricopriva la sua Catherine con una tela verde, tranquillo e sicuro come un gioialiere, che chiuda i suoi scrigni tamendo ad avere a che fare con dei ladri matricolati. Dettò sui due pittori uno sguardo subdolo, pieno di sospetto e di disprezzo. Indicò loro tacitamente la porta del suo studio con precipitazione convulsa. Quindi, dalla soglia di casa, disse. Addio, miei giovani amici. Quell'addio gelò i due pittori. Indomani, Bourbis, preoccupato, tornò a cercare Frenhofer e seppe che era morto quella notte, dopo aver bruciato le sue tele. Parigi, febbraio 1832.